Si è svolto online il convegno intitolato Il paesaggio nella costruzione dell'identità italiana, organizzato dalla Fondazione Luigi Gaeta, Centro Studi Carlo Levi, nell'ambito del progetto La giornata della questione meridionale, dodicesima edizione. L'Appennino meridionale è la nazione italiana a 160 anni dall'Unità d'Italia, finanziato dalla Regione Campania. Ad aprire i lavori è stata Rosaria Gaeta, presidente della Fondazione Luigi Gaeta, Centro Studi Carlo Levi, che ha espresso la sua soddisfazione per questo progetto, che ha come obiettivo quello di creare uno spazio permanente di esposizione dedicato alle aree interne dell'Appennino meridionale. Dopo i saluti istituzionali del vice sindaco di Buccino Maria Trimarco, un momento molto interessante ed apprezzato è stata la proiezione delle immagini della mostra virtuale intitolata Il Sud nell'immaginario leviano, illustrata dalle parole di Antonella Lavornia della Fondazione Carlo Levi di Roma. A seguire, Lidio Mortale, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Gaeta, Centro Studi Carlo Levi, che ha parlato del paesaggio culturale Carlo Levi, spiegando prima di tutto la definizione di paesaggio culturale tratta dall'UNESCO e poi soffermandosi sull'aspetto dell'immateriale che caratterizza il nostro ambiente di vita. In conclusione, l'intervento del professor Giuseppe Fresolone, direttore scientifico del progetto, con paesaggi e immaginari nazionali, che ha evidenziato, oltre alle peculiarità del progetto, mettere in risalto la montagna, in particolare l'Appennino meridionale, come caso di ricerca e sperimentazione di questo nuovo approccio. L'evento, data l'importanza e lo spessore dei contenuti, ha avuto numerose e importanti partner, nonché un nutrito numero di importanti ed autorevoli patrocini. Il convegno, trasmesso sul web, è disponibile sulla pagina Facebook della Fondazione Luigi Gaeta, Centro Studi Carlo Levi.